Dopo un po' di tempo, per pigrizia mentale e per altre situazioni, non ci si ritrova, ma finalmente la ruota gira e ci siamo ritrovati ancora fra amici, grandi amici, Franco, Mauro, Adriano, insomma un sacco, mi dimentico alcuni nomi, a malapena ricordo il nome di mia moglie. Grazie ancora, speriamo di riuscire a intrattenervi in qualche modo in questo posto meraviglioso dove si potrebbe dire che l'acqua santa si mischia insieme al diavolo e nella vita abbiamo dei momenti in cui mandiamo lo sguardo in cielo per ricordare gli amici, per ricordare tante cose e poi nello stesso tempo, nella stessa giornata, nello stesso momento magari ci ritroviamo sprofondati sotto pesanti... Grazie a tutti! 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 ! ! ! ! ! !